Perugia, una partita da far venire i brividi? Sicuramente è una partita difficilissima perché siamo entrambe quinte e ci giochiamo per adesso l'accesso ai play-off. Poi dopo il campionato è lungo, ci stanno ancora tante gare. È una partita sicuramente bellissima da giocare, di quelle più belle che dà gusto, sia per il pubblico, per la squadra avversaria, per tutto. Per te Umbro non sarà una gara come tutte le altre? No, per me sarà un piacere affrontare il Perugia e magari speriamo di fare bene. Contro il Perugia mi sono sempre tolto grandi soddisfazioni. Il primo anno col Foligno ci siamo salvati proprio al Curi, battendo il Perugia all'ultima partita di campionato. Quindi speriamo che queste soddisfazioni continuino.